L'associazione Art Inside di Sava ha avviato un corso di scrittura creativa e giornalismo presso la scuola Giovanni XXIII, diretto dalla scrittrice Elisa Mauro. Si tratta di una delle ultime iniziative dell'associazione savese che ha a cuore la promozione dell'arte in tutte le sue forme. Io sono la presidente dell'associazione Art Inside, Carni Antonucci. Praticamente Art Inside nasce per la promozione dell'arte sul nostro territorio, attraverso creazioni di corsi professionali, attraverso eventi che possono essere quelli di scrittura creativa, di giornalismo, di corsi d'arte, che mirano alla promozione ma soprattutto alla formazione attraverso figure professionali nell'ambito specifico dei corsi che si vanno a realizzare. Ma soprattutto il nostro scopo è proprio quello della promozione dell'arte a 360 gradi sul nostro territorio. Molto spesso non viene qualificata e fatta conoscere adeguatamente e quindi la nostra associazione si propone proprio di dare la possibilità a tutti, anche a chi non si è mai avvicinato al mondo dell'arte, di poterne fare parte e di poterla fare materialmente, attraverso vari corsi che facciamo periodicamente, che vengono strutturati a seconda dell'età anche dei corsisti che si avvicinano a queste iniziative. Siamo già partiti con il corso di Belle Arti che è suddiviso in tre sezioni, quindi una sezione per bambini, una sezione ragazzi e una sezione adulti. Quindi siamo in attivo già con questo corso che ha preso una bella direzione, ha riscontrato un grande successo nel posto. I corsi di Belle Arti sono diretti da me, che sono un artista di professione, quindi quelli li seguo io direttamente, mentre questo corso di scrittura creativa sarà guidato dalla dottoressa Mauro, che è una professionista nel campo. Non è nulla, lascio la parola a lei che meglio spiegherà le dinamiche di questo corso. Quarto è anche scrittura creativa, giornalismo, quindi come si articolerà questo corso? Allora, è un seminario e quindi era partito in realtà originariamente come un corso, ora faremo un seminario, quindi qualcosa di molto più concentrato, che però non dimenticherà comunque le fondamenta e la struttura organica del corso. Si tratterà di narratologia, di semiologia e di giornalismo, insomma per chi vorrà approfondire anche la parte diciamo un po' più, come dire, meccanica del lavoro dello scrittore e del giornalista. E' stata un'idea partita dalla presidente dell'associazione Art Inside, Carmine. E' un invito che era partito da Roma e quindi io mi ritrovo qui a Sava, nel luogo in cui sono nata, molto piacevolmente e davvero contenta di portare avanti questo corso, anche sperando in una bella risposta, ne siamo convinti, da parte della cittadinanza. Chi volesse aderire, cosa deve fare? Siamo presenti su tutti i social, lì potete trovare il nostro blog, il nostro sito internet, dove ci sono tutte le informazioni su tutti i corsi che si svolgono, che svolge l'associazione. Tutti i corsi sono svolti qui all'istituto scolastico Giovanni XXIII a Sava, dove abbiamo avuto la grande accoglienza da parte della preside, che ha abbracciato in maniera molto entusiasta questo genere di iniziative culturali. Quindi per qualsiasi cosa rivolgersi alla nostra associazione attraverso il sito, attraverso i numeri di telefono che sono presenti dappertutto, venirci a trovare direttamente negli orari dei corsi, qui all'istituto scolastico Giovanni XXIII a Sava. Grazie.